benvenuti su yogare sono giovanni asta e in questa altra piccola lezione consigli che vi voglio dare dopo aver parlato nel video precedente dell'importanza e sottolineato l'importanza della respirazione e alcuni consigli su come imparare a respirare col diaframma e farlo lavorare in maniere differenti vorrei affrontare almeno anche solo di passaggio un argomento importante che è quello del dolore che cos'è il dolore il dolore credo è quella cosa che ognuno di noi vorrebbe sempre un pochino starci lontano comunque sentirne meno possibile ma se devo guardarlo dal punto di vista diciamo così della visione yogica delle cose potremmo considerare sempre che quindi ogni cosa ha una parte negativa e una parte positiva e quindi anche il dolore sicuramente potrebbe avere qualcosa da cui trarre un insegnamento infatti una delle più belle cose che possiamo provare ad imparare a fare per quanto difficile è a cercare di osservare quando ci succede qualche cosa di doloroso osservare e cercare di capire perché è avvenuto perché sta succedendo c'è questa condizione di dolore questo in un certo modo ci aiuta un po' a distaccarcene e potere magari chiarire meglio dentro di noi quale possono essere le cause se volessimo definirlo un pochino il dolore potremmo sicuramente dire che è una sensazione che molto spesso ha un'origine emotiva che poi trasferisce e fuoriesce attraverso il corpo per quanto possa sembrare difficile o improbabile anche eventi che possono sembrare causali hanno comunque sempre un'origine possiamo trovarci un'origine da una condizione psicologica particolare che magari stiamo vivendo nella in quella parte della nostra vita e quindi si determinano delle condizioni delle energie tali per cui può avvenire magari qualcosa di doloroso può essere qualcosa di assolutamente fisiologico quando è semplicemente la risposta del nostro sistema del nostro sistema del nostro sistema nervoso e quindi di autocontrollo di difesa e che ci avverte che c'è qualcosa che non va e quindi questo è assolutamente positivo ma ma quando è un fatto un punto fisiologico ma quando questo diventa un pochino cronico si auto alimenta e può diventare anche esso una malattia e in quel caso sicuramente l'aiuto di un terapeuta di un medico naturalmente sono di estremo aiuto ma è indubbio che noi siamo comunque i migliori medici di noi stessi e quindi l'allenamento se così vogliamo chiamarlo a stare con il nostro dolore e capire il perché da dove viene osservarlo osservarlo ascoltarlo e portarlo su un piano diverso che quello che magari può essere il corpo è sicuramente molto utile anche perché molto spesso il dolore appunto causato da un'emozione può anche essere diciamo così può avere una via opposta potrebbe anche essere il corpo che poi crea un'emozione dolorosa attraverso qualcosa che ci succede fatta questa piccola premessa che ognuno di voi è libero di di condividere di approfondire o di perché no scartare nella vorrei parlarvi della mia esperienza come insegnante la molto spesso le persone si approcciano allo yoga perché presentano qualche problema qualche dolore e una delle zone più interessate naturalmente la schiena e in particolare la parte bassa della schiena la zona lombosacrale come ci mostra il nostro assistente qui oggi e possiamo vedere in effetti come siamo come siamo fatti all'interno come il nostro arrachide il nostro bacino e la zona lombare dorsale cervicale eccetera quindi molto spesso essendo questa la zona una zona centrale l'articolazione più grande del nostro corpo e in cui gli scarichi tra la parte bassa e la parte alta si concentrano e che hanno poi anche tutta una parte viscerale contenuta all'interno e una parte vitale sopra estremamente importante questo carico e le nostre abitudini di vita di postura soprattutto molto spesso hanno delle ripercussioni importanti qui e determinano delle condizioni di dolore condizioni di dolore naturalmente che sono dovute a varie cause e qui io vi invito sempre a consultare un medico il vostro terapista ma generalmente arrivano da una grande rigidità muscolare in questa zona del corpo oppure sono determinati proprio da un anche da una parte legata alla genetica stessa c'è chi tendenzialmente può avere i dischi intervertebrali più naturalmente sottili e quindi piano piano con l'andare del tempo e magari che so anche una un tipo di alimentazione non proprio corretta tendono sempre di più ad assottigliarsi e quindi a ridurre la mobilità e creare degli scompensi a livello vertebrale dovuta al carico che ogni giorno queste strutture sopportano potrebbe esserci non so una piccola problema o comunque disallineamento posturale che è in grado di procurare quelle che vengono chiamate protrusioni cioè quando il nucleo polposo del disco intravertebrale tende ad uscire e allora quella fuoriuscita che può diventare un'ernia come ad esempio rappresentata in questa in questo modello va a premere su ad esempio un nervo che di passaggio per questa è una zona estremamente vitale e ricca di passaggi nervosi e determinando una compressione quindi creando proprio dolori molto importanti un'altra delle cause più soventi e più ricorrenti è appunto un'infiammazione di quello che è il nervo sciatico che è il nervo probabilmente più grande anzi credo proprio che sia il più grosso che abbiamo nel nostro corpo che si dirama poi e scende lungo la gamba in due rami principali quindi senza sostituirmi a un medico anche perché ognuna potrebbe avere una una soluzione particolare specifica per alleviare il problema e andare quindi a risolverlo vorrei proporvi alcuni semplici esercizi che sicuramente non ci fanno male per tutte queste situazioni che vi ho descritto e che quindi ci possono aiutare a mantenere una mobilità articolare e un allungamento muscolare che crea una situazione adatta eventualmente anche ad una cura specifica di quello che è il nostro problema la nostra patologia e quindi invito vi invito come dire a creare un'abitudine positiva nella nella vostra vita e magari stabilire un piccolo spazio durante la vostra giornata in cui poter eseguire alcune posizioni che vi aiuteranno sicuramente a mantenere quella zona più sciolta in una condizione di benessere. Possiamo stabilire ad esempio che se riusciamo a prenderci qualche minuto ad esempio il mattino quando ci siamo alzati cosa molto molto buona perché creiamo subito una memoria e un'abitudine prima di cominciare le nostre attività molto interessante che ci sarà di grande aiuto dobbiamo considerare se scegliamo questa parte della giornata che comunque appena svegliati il corpo è piuttosto rigido quindi dovremmo essere cauti e andare con estrema gradualità un'altra cosa molto molto importante. Per vedere un pochino questi piccoli esercizi potremmo avere bisogno di alcuni supporti come dei semplici cuscini o una sedia o delle coperte cose che possiamo reperire credo con estrema facilità a ognuno di noi nella nella propria casa. E quindi vi mostrerò alcune cose ad esempio se decidiamo che la nostra attività si svolgerà di mattina perché abbiamo quello spazio potremmo cominciare trovato il nostro angolo in cui praticare un pochino il nostro tappetino oppure un semplice tappeto è più che sufficiente in una condizione con degli abiti molto comodi potremmo cominciare da distesi a terra e metterci quindi in una condizione in cui l'articolazione del bacino e la colonna vertebrale non hanno il carico che normalmente sopportano durante tutta la giornata e quindi in questa condizione ad esempio in questo modo o se per noi è difficile arrivare con le mani sopra le ginocchia potremmo metterle sotto tra le cosce e i polpacci o addirittura ancora magari con una cintura di un accappatoio andare a passarle sopra le ginocchia e mantenere ok e in questo modo attraverso l'allungamento muscolare che si crea annullando la curva lombare creiamo subito un allungamento di quella muscolatura in quella zona del corpo e quindi cominceremo a creare a proporre alcuni movimenti alle articolazioni come ad esempio semplicemente alle caviglie e a questo punto un'altra cosa che vi raccomando è sempre fare il tutto seguendo il respiro il respiro guida il movimento segue ok quindi inspiro e espiro inspiro e espiro e muoviamo un pochino le articolazioni della caviglia e portando le mani sulle rispettive ginocchia potremmo aprire dolcemente inspirando e espirando chiudere inspirando aprire e espirando chiudere ok inspiro ed espiro a questo punto potremo anche creare un allungamento a livello dorsale un pochino più intenso espirando e salendo un pochino con la testa e con le spalle e poi ritornare giù riallungando bene collo e spalle a terra a questo punto potremmo anche proporre ad esempio una torsione portando le ginocchia entrambe verso sinistra verso destra in questo caso dolcemente portando le ginocchia ok inspiriamo ed espiriamo e manteniamo la posizione se possibile bloccando appena appena con la mano destra le due ginocchia verso terra e lasciando completamente rilassato tutto il lato sinistro del corpo in questo caso inspirare e espirare morbidamente senza forzare e potremmo utilizzare se per noi è difficile arrivare a terra dei piccoli spessori fino a che non troveremo una posizione una condizione comoda ricordiamoci che siamo al mattino il corpo è rigido e ascoltare il respiro che è facilmente percepibile sulla parte sinistra in questo caso del corpo e inspirare e espirare e torneremo su ricordate sempre che essendo la parte addominale del bacino la parte la zona centrale del nostro corpo quando ci muoviamo è sempre opportuno dare un leggero input alla muscolatura addominale e quindi da qui attiverete leggermente gli addominali per risalire verso l'alto e naturalmente andare poi a proporre al corpo la torsione dalla parte opposta a questo punto potremmo tranquillamente ruotare sul fianco e poi venire a sederci e una volta seduti con le gambe incrociate sostenuti da un cuscino se ne abbiamo bisogno o da più cuscini se ne abbiamo bisogno potremmo massaggiarci un attimo il viso molto importante creare proprio un movimento a livello dell'articolazione temporomandibolare che è sempre un punto in cui le tensioni anche inconsce rimangono stagne molto forte e poi fare alcuni movimenti di circonduzione ad esempio e anche qui seguendo il respiro quindi inspirando la testa salirà e espirando scenderà avendo cura naturalmente di invertire il senso di rotazione ed essendo molto consapevoli del movimento che stiamo facendo naturalmente anche un movimento di discesa e di salita del collo e della testa di torsione espiro eseguo la torsione e inspiro ritorno al centro e poi la ripropongo e allo stesso modo posso proporre la flessione espirando eseguo la flessione e inspirando ritorno verso il centro avendo cura di muovere meno possibile il tronco e di isolare proprio solo la zona del collo in questo modo avremo dato un pochino di mobilità alla zona lombare allungandola un po e avremo dato un pochino di mobilità al tratto cervicale quindi potremmo metterci nella posizione quadrupedica o quadrupedia come viene chiamata e eseguire un movimento classico chiamato in molti modi lo chiamiamo semplicemente senza entrare troppo dentro i dettagli dello yoga il movimento del gatto o della mucca che una volta trovata questa condizione cercate di non lasciarvi troppo andare giù con e quindi di creare una iper lordosi ma di mantenere il dorso allineato la testa non caduta ma bene in linea il movimento un movimento che nasce dal bacino una volta consapevoli bene degli appoggi delle mani subito sotto le spalle leggermente più avanti o leggermente più indietro ognuno ha il suo punto di equilibrio da trovare da sperimentare qui l'importanza della pratica il movimento nasce dal bacino e quindi da quella leggera contrazione addominale ci fa ruotare il bacino vedete il dorso si incurva verso l'alto la testa scende giù lo sguardo viene indietro come in direzione dei piedi e inspirando nuovamente c'è un movimento opposto quando inspiro e cerco di inarcare leggermente la schiena le spalle si allontanano dalle orecchie ma cercate di evitare di creare troppo stress sulla zona cervicale mantenete sempre create una curva che sia più possibile armonica e continueremo con il movimento e lo renderemo fluido morbido e soprattutto legato al respiro bene a questo punto ripetuto un pochino di volte potremo anche tenere questi movimenti almeno cinque volte eseguire questa pratica almeno cinque volte in azione dinamica mentre le posizioni un pochino più statiche le potremmo mantenere almeno cinque respiri ad esempio un'evoluzione di questo movimento potrebbe essere questa quindi dalla posizione del gatto lentamente premendo le mani verso il pavimento venite indietro a cercare lentamente con i glutei i talloni potete interrompere ed eseguire un tratto alla volta avendo cura di muovervi sulla espirazione fino a che non arriveremo e questo creerà un allungamento piuttosto intenso è chiaro che se qualcuno di noi ha problemi alle ginocchia e la chiusura completa dell'articolazione del ginocchio ci porta qualche problema o non siamo in grado rimarremo più in alto e coinvolgeremo meno faremo un'azione meno importante sulle ginocchia ok e rimarremo leggermente staccati da terra e a quel punto potremmo anche usare dei supporti dei cuscini come prima abbiamo visto o delle coperte se invece non abbiamo problemi e il nostro corpo ce lo consente a questo punto da qui possiamo fare un'azione dinamica ripassando dal gatto e lentamente ora qui le braccia hanno una grande importanza accompagnare il bacino verso terra spingendo bene le braccia dolcemente e sentendo l'apertura graduale del torace e allungando il collo bene evitate in questa posizione di chiudere e portare subito lo sguardo troppo in alto comprimendo troppo le cervicali ma occupatevi maggiori ma occupatevi maggiormente di più di più di allungare la zona dorsa cervicale e poi piano piano con i movimenti aprire maggiormente il torace quando ritornerete sempre attiverete la cintura addominale e ritorneremo nella condizione del gatto. In questo modo i corpi vertebrali si stanno aprendo in una direzione e nell'altra, anteriormente e posteriormente e gradualmente vedrete che la vostra elasticità migliorerà con un movimento estremamente semplice e ritorneremo nella posizione quadrupedica. A questo punto per tornare in piedi una cosa molto importante è appunto il come, che questo ci può servire moltissimo anche nelle, proprio nella vita di tutti i giorni, avvicinerete le mani ai piedi, alle ginocchia scusate, e verrete nella posizione di malasana. È chiaro che questa posizione permette al dorso di incurvarsi completamente, di creare un'opposizione tra il peso della testa e il peso del bacino. Le mani ci serviranno solo per avere un piccolo aiuto per l'equilibrio, ma se questo naturalmente sempre per problemi alle ginocchia non possiamo mantenere, potremo distendere le gambe e anche qui possiamo affrontare semplicemente, inizialmente con le gambe flesse e la testa giù e rilassare. I piedi saranno paralleli, la larghezza circa quella del bacino o comunque un pochino più larghi o un pochino più stretti a seconda della conformazione del nostro bacino stesso. Quindi se lentamente vogliamo provare piano piano con la gradualità, magari dopo varie sedute, a distendere le gambe o perché pratichiamo, andiamo comunque a praticare yoga con il nostro insegnante, potremmo arrivare a distendere completamente le gambe, ispirando ed espirando, avendo cura, poi nel momento in cui risaliamo, di prima distendere le braccia, poi flettere le gambe e poi salire su. Questo movimento sicuramente ci preserverà da qualsiasi problema alla schiena e questo è un modo di salire e scendere molto intelligente, soprattutto nelle cose pratiche, perché quando avvengono i problemi, quando non siamo consapevoli e andare a prendere qualcosa giù così, sono quelli generalmente i momenti in cui possiamo anche farci un attimo male. Ok? Se invece ad esempio pratichiamo di sera, potremmo una volta tornati dal lavoro, sfruttare un pochino il muro per rilassare le gambe che comunque normalmente ci hanno sorretto un pochino per tutto il giorno e quindi possiamo proporci la posizione di Viparita Karani nella fase proprio più semplice, creando un appoggio delle gambe contro il muro, tenendo la inclinazione a noi più congeniale e rilassarci ascoltando il respiro. L'ascolto del respiro è sempre il primo passo, quello che ci predispone al qui e ora, al momento, è rilassare. In questo modo la curva lombare è completamente scarica, riallungata, il peso dell'addome verso il basso aiuta proprio insieme al massaggio del diaframma a massaggiare internamente la muscolatura lombare e a distenderla e le gambe facilitate dalla posizione hanno un ritorno venoso estremamente semplice. La condizione di schiena a terra e quindi di allineamento tra il cuore e il cervello favorisce senza che il cuore debba spingere verso il pompare il sangue verso l'alto e quindi tutto è estremamente semplice e facile, ci possiamo rilassare. A questo punto possiamo poi, una volta rilassati e scaricati un pochino la schiena, potremo anche proporre un allungamento molto semplice, ancora una volta senza carico, spingendo con i piedi contro il muro e allungando bene le braccia lontano, sentendo gli opposti e eventualmente poi, una volta raccolte le ginocchia verso il petto, andare ad eseguire una posizione che nello yoga è chiamata Succivandrasana, la posizione della cruna del lago, che è una condizione molto interessante per chi soffre di nervo sciatico, di dolori al nervo sciatico, perché comunque tende a lasciare liberare e a sciogliere quella parte del corpo in cui passa il nostro nervo. Quindi per farvela vedere anche da questo lato, e naturalmente anche qui potrete renderla più o meno intensa, potrete anche semplicemente, se la vostra capacità di articolare non lo permette, rimanere così, con il piede a terra, o agganciare sotto anziché sopra, bene, per la posizione completa. La cosa importante è che abbiate sempre presente che non ci deve essere una condizione di compressione e non rimanere lì attaccati per forza se questa parte del corpo è contratta. Ok? Inspirare e espirare e mantenere la posizione. A questo punto potremmo anche eseguire una torsione che coinvolge la parte più bassa del nostro corpo, della zona lombare, spostando leggermente il piede sinistro a terra e accavallando, uno, due, e portando le due ginocchia, in questo caso, verso sinistra, verso destra. Scusate. Ok? E lo possiamo mostrare anche qui. Quindi, uno, sposto leggermente il piede, sposto leggermente il bacino, in questo modo, la colonna vertebrale risulterà durante la torsione più allineata, e respirerò. Potremmo anche aggiungere la torsione del viso verso la parte opposta rispetto alle ginocchia, ma questa comunque rimane sempre l'ultima, l'ultimo tratto su cui lavorare. Una volta sciolto e fatto da entrambe le parti, naturalmente, dopo una posizione asimmetrica, chiediamo sempre una posizione simmetrica. e poi ruotiamo sul fianco e proveremo dalla posizione quadrupedica, come abbiamo fatto prima, o questa mattina, a sollevarci. Questa volta proveremo direttamente a salire in flessione in avanti, quindi portando le mani, spingerete bene in modo che a questo punto, anche chi non ha una buona flessibilità, una grande flessibilità, può trovarsi con il peso totalmente sui piedi e poi lentamente distendere più o meno le gambe e allungare. E poi con le mani, uno, due, flettere e risalire. Bene. A questo punto potremmo, prima di tutto, sentire un allineamento bene del nostro corpo, allungare bene, inspirando ed espirando, cercando proprio di eliminare quasi la cifosità, a creare una memoria diversa da ciò che invece facciamo durante tutto il giorno, che sopportiamo peso oppure ci arrabbiamo, ci chiudiamo. Quindi apriamo un pochino di più e cerchiamo bene di allineare la testa, di sentirla bene in linea con il resto del tronco e allungare nelle due direzioni, bene, portando questa parte in alto e i piedi in basso. Questa condizione fisiologica la potremmo creare e mantenere anche con una flessione in avanti, aumentando quindi lo stiramento sulla catena posteriore, sfruttando ad esempio una sedia. quindi appoggiando le mani sulla sedia o su un tavolo, a seconda di quello che avete, piano piano, dolcemente, prima cercherete la stessa condizione della schiena e non è importante quanto verrete giù. Potrete fare scivolare in avanti la sedia se è una sedia o spostare gradualmente i piedi più indietro se, ad esempio, è un tavolo, mantenendo i piedi paralleli e scendendo giù. Non è importante se siete perfettamente allineati. è importante che non creiamo questo per andare giù per forza. bene, quindi... ... ... ...